numero 5 playstation classiche è una scelta perfetta per tutti coloro che hanno vissuto la prima esperienza di gioco con la console di sony playstation 1 la console lanciata all'epoca con una grande quantità di giochi in 3d viene fornita con 20 videogiochi preinstallati tra questi troviamo tecken 3 rayman grand theft auto metal gear solid e final fantasy 7 pur mancando di alcune importanti uscite come crash bandicoot o tom brider playstation classic è un vero gioiellino per tutti gli amanti degli anni 90 il suo design non è cambiato rispetto alla versione originale e la confezione include già due controller con un cavo da 1,5 metri la connessione alla tv avviene attraverso un cavo hdmi e le immagini vengono scalate dalla console dalla risoluzione originale della ps 1 a 720p se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 atari flashback 8 gold hd è la scelta ideale per chi desidera rivivere l'esperienza della storica atari 2600 la console contiene una vasta selezione di 120 videogiochi classici tra cui space invaders pacman asteroids o pitfall sebbene non sia possibile espandere l'elenco di videogiochi precaricati con altri titoli questa console retro gaming garantisce un'ottima longevità la confezione include anche un paio di joystick wireless dal design identico a quello dell'originale degli anni 70 nonché ulteriori porte per connettere controller con cavo e pedal la connessione allo schermo esterno avviene attraverso l'uscita hdmi in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 3 la sega megadrive mini è una replica fedele della console da gioco 16 bit originale rilasciata ormai oltre 30 anni fa la consola è precaricata con 42 videogiochi tra cui sonic street fighter 2 castelvania golden axe e restart purtroppo non è possibile aggiungere ulteriori videogiochi sia tramite download digitale che tramite supporto fisico la console si connette al televisore attraverso l'uscita hdmi trasmettendo un'immagine in risoluzione 720p l'esperienza dell'utente è ulteriormente arricchita dalla presenza dell'originale musica di sottofondo durante la navigazione dei menu composta dal leggendario yuzo koshiro se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 la nintendo classic mini è una console per videogiochi retro che riproduce fedelmente l'originale console ns uscita nel 1986 questo device è una vera chicca per gli appassionati di videogiochi che potranno godere di una selezione di 30 titoloni che hanno segnato la storia dei videogiochi 8 bit tra questi troviamo donkey kong super mario bros the legend of zelda bubble bobble e castelvania la nintendo classic mini è anche piacevole da guardare e imperdibile per il collezionista che voglia anche lasciarla esposta in bella vista all'interno della confezione è incluso anche un controller anch'esso fedele nel design all'originale trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 il super nintendo classic mini è la console retro gaming definitiva con la sua selezione di 21 classici titoli preinstallati tra cui super mario world super mario kart the legend of zelda street fighter 2 e super metroid gli appassionati non potranno fare a meno di godere dei giochi classici su un dispositivo moderno inoltre l'esclusivo starfox 2 è stato pubblicato in occasione del rilascio di questo modello a 16 bit il design riproduce fedelmente quello originale ma in scala ridotta e grazie all'uscita hdmi si può godere di un'ottima qualità dell'immagine anche sui grandi schermi la confezione include anche due controller che riproducono fedelmente gli originali peccato solo che il cavo sia leggermente troppo corto per permettere ai giocatori di sedersi comodamente sul divano acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione